Chiede l'istituzione anche in provincia di Salerno e poi in tutta la regione Campania di cabine di regia in vista della riorganizzazione per la riapertura delle scuole il coordinamento dei consigli d'istituto che conta 1200 adesioni nazionali oltre 100 nella regione Campania. Lo stesso coordinamento ricorda che il governo ha deciso di riaprire le scuole secondarie su tutto il territorio nazionale dal prossimo 7 gennaio. Contemporaneamente viene prevista la nascita delle cabine di regia presso le prefetture per definire e coordinare gli ingressi degli studenti ma soprattutto riorganizzare il trasporto pubblico locale in modo da consentire ai ragazzi di viaggiare in perfetta sicurezza. Il coordinamento non solo chiede la costituzione di queste cabine di regia ma anche che un proprio rappresentante venga invitato a farne parte. Per questo motivo il coordinamento dei consigli di istituto ha chiesto al ministro dell'interno di sollecitare le prefetture campane a costituire le cabine di regia e soprattutto di poterne far parte affinché possa essere dato il contributo alla riapertura delle scuole secondarie, all'organizzazione degli ingressi scaionati delle scuole con il trasporto pubblico locale, al coordinamento efficace e tempestivo tra scuole e ASL e ovviamente al monitoraggio sull'evoluzione ed eventuali contagi da Covid-19 nelle scuole.